gentili telespettatori buona giornata parliamo della sfiducia speranza in senato la lega esce dall'aula che vuol dire mercoledì 28 dopo domani ci sarà la votazione a palazzo madama d'ore palazzo madama stavo scherzando sul ministro della salute la mozione di sfiducia viene presentata da fratelli d'italia non aveva i numeri fratelli d'italia per presentare la mozione di sfiducia perché sia il senato che alla camera dei deputati a palazzo montecitorio ci vogliono dei numeri minimi per poter presentare una mozione di sfiducia fratelli d'italia non ce li ha perché la presenza di fratelli d'italia in politica rappresenta i voti del 2018 quando aveva il 4 per cento e quindi ha una rappresentanza piccola in politica anche se è il terzo partito barra secondo però c'è l'aiuto di diversi senatori come sgarbi paragone e altri del gruppo misto di altri partiti che hanno votato e hanno firmato per questa mozione di sfiducia ed è per questo che si potrà votarla il 28 aprile nell'aula di palazzo madama palazzo madama è la sede del senato della repubblica a metà settimana il senato voterà infatti la mozione di sfiducia annunciata da giorgia meloni nei confronti di roberto speranza che cos'è la mozione di sfiducia è una richiesta di licenziamento di praticamente è una richiesta di cambiare il ministro della salute per ci sono poi delle motivazioni chi vota sì chi vota no nel caso vince il no rimane speranza ministro della salute nel caso dovesse vincere il sì è vincolante cioè decade il ruolo da ministro ma lui continua ad essere un politico con il suo stipendio i suoi 13 mila euro netti al mese senza più lo stipendio da ministro che comporta un aumento a circa 18 19 mila euro netti al mese questa è una mozione di sfiducia ecco una mozione cioè la maggioranza poi del parlamento se vota sì bye bye robie speranza ma non succederà niente perché ovviamente non ci sono i numeri per sfiduciare speranza a meno che a meno che lega e forza italia votino questa sfiducia poi con tutti quelli che hanno aiutato meloni a proporla sicuramente in senato vincerebbe il mandiamolo a casa ma lega e forza italia non vogliono non vogliono comunque votarla perché vorrebbe dire mettersi contro il governo nel quale partecipano e votare una sfiducia a un ministro di cui loro di un governo di cui loro fanno parte equivale a dire noi siamo contro lo stesso governo si aprirebbe una crisi di governo dell'esecutivo e così con questa crisi salvini e berlusconi dovrebbero uscire da questo governo mettersi all'opposizione poi il governo probabilmente potrebbe cadere ecco quello che potrebbe succedere ma né salvini né berlusconi vogliono fare cadere questo governo questa è la realtà e per questo che cosa farà adesso la lega in senato ve lo racconto beh oltre attenzione che oltre alla mozione di sfiducia proposta da fratelli d'italia ci saranno all'ordine del giorno anche le mozioni di italexit e alternativa c'è che dovranno essere votate in modo separato cioè tre mozioni di sfiducia con gli stessi con lo stesso numero di voti che è riuscito a raccogliere fratelli d'italia assieme come vi dicevo a italexit alternativa c'è sgarbi eccetera eccetera questi che hanno aiutato fratelli d'italia beh le hanno detto beh facciamo la tua mozione di sfiducia però firmate anche la nostra ne facciamo tre mozioni di sfiducia una di giorgia meloni una di paragone e una di alternativa c'è quindi le mozioni di questi altri due partiti che dovranno essere votate in modo separato sul fatto che il ministro della salute ed esponente di leu liberi uguali e mi sono sempre chiesto ma liberi da che cosa e uguali a chi non si sa non verrà sfiduciato non ci sono dubbi su questo come vi dicevo prima perché pd movimento 5 stelle e forza italia voteranno convintamente in maniera compatta contro ma politicamente l'attesa è per il comportamento in aula della lega e di matteo salvini partito di maggioranza con tre ministri in cui uno giancarlo giorgetti autorevolissimo negli ultimi giorni vedi coprifuoco alle 22 ha un piede fuori dal governo secondo quanto riporta affari italiani punto it e salvo colpi di scena dell'ultima ora i senatori del carroccio usciranno dall'emiciclo e non parteciperanno alla votazione un segnale politico forte più pesante del semplice voto di astensione quindi qui non è l'astensione escono dall'aula come dire noi non ci siamo c'è il voto sì il voto no l'astensione e l'uscita dall'aula cioè non sono non si sono presentati per questo per manifestare la totale contrarietà di salvini rispetto alle ultime scelte dell'esecutivo in molti casi figlie proprio della linea di rigore di robbi speranza la lega non può votare a favore della sfiducia pena l'uscita immediata dal governo draghi con le dimissioni di giorgetti garavaglia e stefani non è quello che vuole l'ex ministro dell'interno salvini che ha sempre sottolineato in polemica con la meloni come l'intento del governo si possa provare a cambiare le cose mentre all'opposizione si può solo urlare protestare diceva salvini in questi giorni lo ha rimarcato in ogni intervista riman rimarca la stessa cosa dice noi siamo dentro per non far governare esclusivamente la sinistra mentre c'è chi è fuori che lì alla finestra che protesta e prende voti questo salvini lo sta ripetendo in tutte le interviste lo dice al finale all'inizio a metà ma la non può nemmeno votare contro la mozione di sfiducia altrimenti di fatto speranza direventerebbe immediatamente anche un ministro del carroccio con probabili pesanti ripercussioni nei sondaggi e a livello di consenso elettorale serve dunque un segnale deciso nei confronti di speranza e di chi pidi in testa continua ad opporsi ad esempio all'abolizione del coprifuoco ma politicamente salvini non può nemmeno mettersi in scia di fratelli d'italia deve trovare una linea autonoma e chiara e l'unica cosa che può fare salvini è quella più grave prima di dire no cioè è la più pesante verso speranza prima di dire no non è la stensione ma è l'uscire dall'aula cioè non presentarsi alla votazione come vi dicevo votare no a speranza significherebbe che l'automatica non automatica ma la conseguente uscita della lega dal dal governo con tutto quello che ne può comportare probabilmente poi il governo non cade perché si dice che forse italia potrebbe seguire la lega ma anche no quindi vorrebbe dire che anche salvini va all'opposizione e lui non vuole andare all'opposizione vuole rimanere nel governo per cambiare le cose dall'interno io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata